Ben ritrovati dalla redazione di News24.city. Puglia, scoperti 162 lavoratori in nero in due giorni, le fiamme gialle trovano nel nord barese un'impresa sconosciuta al fisco. Fasano, fallisce assalto a furgone e portavalori sulla statale 379, strada chiusa al traffico, mezzi in fiamme, nessun ferito. San Giovanni Rotondo, scempio di querce protette, in manette tre pregiudicati, i soggetti sono stati colti in flaganza di reato dai carabinieri in località difesa. Putignano, arrestato ladro seriale di supermercati, l'uomo di 30 anni aveva rubato 300 euro di alimentari in tre supermercati. Taranto, ubriaca al volante, colpisce quattro auto parcheggiate e aggredisce poliziotti, la donna di 30 anni stava transitando in via Ristosseno. Bari, in volo da Bari a Parigi con Air France, nuovo collegamento da luglio a settembre, previsti cinque voli a settimana verso l'aeroporto Charles de Gaulle.